La città che sale, il festival di M&M che sposta il centro della città. Dal 17 al 25 settembre nelle case popolari di Milano. Social tango, social music, concerti sui tenerotti e nei portieri delle case popolari di Milano. La città che sale. Dal 17 al 25 settembre a Milano. È una produzione Musica Morfosi.